La conferma arriva dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Padova. Sono positivi ai test per il virus West Nile i campioni di due pazienti sospettati di aver accontrato la malattia. I laboratori hanno comunicato ufficialmente il risultato all'azienda ULS5 all'interno della quale risiedono i due pazienti, uno a Canaro e uno a Occhiobello. Entrambi, rende noto la stessa azienda sanitaria, sono in discrete condizioni di salute e rispondono bene alle cure. Il mese scorso l'Istituto Zoo Profilattico aveva accertato un focolaio di virus in insetti del veneziano informando il Dipartimento di Prevenzione in modo da far scattare subito le azioni di prevenzione per evitare che il virus potesse essere trasmesso alle persone attraverso la puntura di zanzara infetta. Il West Nile infatti può essere molto pericoloso se colpisce persone anziane, fragili o con altre malattie nelle quali può causare gravi forme di meningoencefalite mentre nelle persone sane, nella maggior parte dei casi, dà luogo a un quadro clinico simile all'influenza dopo circa due settimane dalla puntura della zanzara infetta.